Ciao, splendore, come stai? Che bello vederti. Bentornato qui sul nostro canale, totalmente dedicato al rilassamento, alla ASMR. Benvenuto. Questa sarà una seduta che sarà rigenerante per entrambi, perché quello che faremo insieme sarà un'esperienza indimenticabile. Infatti, ci coccoleremo come si deve, effettuando un fantastico massaggio al collo e al viso. Per questo motivo, saranno tre gli strumenti necessari. Allora, il primo strumento per effettuare al meglio il massaggio è una semplice crema viso. Io utilizzerò questa che ti ho già mostrato in uno dei miei video precedenti, con la quale mi sto trovando benissimo, della SIE. Tu puoi usare la crema che desideri, adatta alla tipologia della tua pelle. Poi, un altro strumento però è facoltativo, ma sinceramente ti consiglio di utilizzarlo. È una profumazione. Io, nel mio caso, utilizzerò questa, al talco classico della Felce Azzurra. Sono da anni innamorata di questa profumazione, proprio però sempre della Felce Azzurra. ha qualcosa di speciale, mi rilassa e è proprio questo lo scopo di utilizzare, all'interno di questa seduta di massaggio, un qualsiasi tipo di aroma, in modo tale da rendere ancora più speciale questo momento. Sappiamo bene quanto sia enorme il potere dell'aromaterapia. E per questo motivo ti chiedo di stoppare questo video e di andare a scegliere la profumazione che più ti piace, che più ti rilassa. non deve essere per forza uno spray, può essere anche una candela, qualsiasi cosa che sia di tuo gradimento. Così possiamo rendere l'ambiente completo. Ah, dimenticavo il terzo strumento fondamentale e quello più importante. le nostre mani. Senza le nostre mani, questo massaggio non avrebbe assolutamente lo stesso effetto, lo stesso potere magico. Bene, se hai già preso tutto l'occorrente necessario, io direi di iniziare subito col preparare l'ambiente. spruzzerò questa profumazione al talco senza esagerare, perché è una profumazione che per avere il giusto effetto deve essere ben dosata. quindi ne spruzzo un po' qua, senti che bel suono, e un po' qua, e anche qua. E tu sei pronto per prenderti cura di te stesso, del tuo viso, del tuo collo, e di conseguenza anche della tua mente. perché si sa che mente e corpo sono strettamente interconnessi, quindi grazie a questo piccolo trattamento possiamo rigenerare la nostra mente, magari dopo una giornata abbastanza faticosa, stressante. oppure, perché no, potrebbe anche essere il modo perfetto di incominciare una giornata, per affrontarla con molta positività. Ecco qua la crema, hai preso la tua, perfetto. Allora, vado subito a metterne un po' nella mia mano, ecco qua. E la spalmo un pochino, per omogeneizzare al meglio il composto. Perfetto. Metto i capelli indietro, perché come sono sbadata mi sono dimenticata all'elastico, ma penso che così possa andare. Bene, direi che possiamo iniziare il nostro massaggio finalmente. E questo momento in poi partirà una musichetta, per arricchire ancora di più l'atmosfera. A me piace tantissimo sentire della musica rilassante quando faccio questo genere di sedute. Spero che possa piacere anche a te. Bene, iniziamo con piegare leggermente all'indietro il collo, per poterlo massaggiare. Dobbiamo tenere le mani aperte, in questo modo, e portarle verso l'alto, fino a sotto il mento. così deve essere un movimento delicato, che va a sfiorare quasi. Il nostro collo va così molto bene, molto molto leggero. Così concentrati mi raccomando. Adesso devi semplicemente seguire le mie direttive per tutto il tempo, per tutta la durata di questa seduta, e non devi pensare a nient'altro. Se vuoi, possiamo aggiungere un po' di crema. Ok? Ecco qua. In modo tale che il movimento sia molto più fluido. E continuiamo ancora un po', così, così, così. Movimenti leggeri. E verso l'alto, dal basso, verso l'alto. Dal basso, verso l'alto. Così, 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 così. Wow, che bello! Bene. Adesso, passiamo a questa parte del corpo. Adesso passiamo al viso. Usando indice medio e anulare, facciamo dei movimenti circolari con i polpastrelli. Quindi, poggia solo i polpastrelli. E si parte dal vento per seguire tutta la mandibola. Quindi, lungo tutta la mandibola. Così. Molto delicati, mi raccomando. Deve essere una coccola per il nostro viso. È un massaggio rilassante. Ecco, così. Ancora un'altra volta. Così. Ora, passiamo da sotto il naso. Sempre stesso movimento. Lungo. Lungo. Gli segomi. Di nuovo da sotto il naso. Per passare lungo. Lungo. Gli segomi. E ancora. Così. Delicato, delicato. E una volta ripetuto. Per l'ultima volta. Ci fermiamo. Qua. Utilizzando indice medio e facciamo questi movimenti circolari. In entrambi i sensi orario e anti-orario. Alternando prima in un verso e poi nell'altro. che bello. Che bello. Che bello. Mi sto rilassando tantissimo. Ah, vedo che anche tu sei molto rilassato. Mi va piacere. Ok. Che bello. Qua è dove si concentrano tutti i pensieri negativi. Ah, sì. Per la maggior parte si concentrano qua. Ma con questo massaggio andranno tutti via. Già, non ne ho più. Ecco. Adesso nel naso facciamo delle leggere pressioni dal basso verso l'alto. Sempre con indice medio. Leggero, leggero, leggero. Leggero. Così. E adesso pizzichiamo in quattro punti le sopracciglia. Così. Usando indice e pollice. Si chiama proprio leggermente. Così. Uno, due, tre e quattro. Uno, due, tre e quattro. Leggere pressioni. Adesso andiamo nel contorno occhi. Qua dobbiamo essere ancora più leggeri rispetto agli altri punti. perché è una zona molto molto delicata. Infatti consiglio maggiormente di utilizzare solo gli anulari. Per poter effettuare questi movimenti. Leggeri, leggeri. Leggeri, leggeri. E' bello coccolarsi in questo modo. Prendersi dei minuti per fare questi trattamenti. Vero? Dovresti farlo più spesso. Bene. E adesso le guance. Le guance. Facciamo un movimento molto più accentuato. Così. 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 Prima da un verso. E poi nell'altro. Nell'altro. Ecco. Ancora. E un'ultima volta. Perfetto. Infine. Ci occupiamo della fronte. E facciamo questi movimenti utilizzando le dita. Indice media, anulare. E tocchiamo sempre con leggerezza portando verso l'alto. Che bello. Che bello. Così. 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 Questa è una seduta che puoi fare tutti i giorni perché non richiede molto tempo. E' breve ma super efficace. E nella vita di tutti i giorni è una fortuna perché di tempo spesso ce n'è poco. Anche se dovremmo prendercene un pochino di più quando ne sentiamo il bisogno. Questo poco ma sicuro. Però quando abbiamo tanti impegni e non possiamo proprio rinunciare. Diciamo che questa è una valida alternativa. E potrei farla insieme a me tutte le volte che desideri. Bene. Infine. Tocchiamo così con tutte le mani il viso. Sempre con molta leggerezza tutte le sue parti. Bene. Il nostro trattamento massaggio super rilassante è terminato. Io mi sto seriamente addormentando. Non so tu ma mi sento rilassatissima. Giuro. Devo farlo più spesso anche io. Wow. Sono incredula quanto te. Ricordami che devo fare più spesso sedute dedicate ai massaggi e trattamenti di questo tipo. Perché mi piace tantissimo farle. A volte me lo dimentico ma mi piace proprio tanto. E spero che anche tu abbia apprezzato. Ti mando un bacio grande. È stato un piacere stare insieme a te. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao splendore. A presto.